Via libera a matrimoni, ristoranti, centri commerciali e coprifuoco ritardato. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma e le riaperture, alla luce del miglioramento dei dati epidemiologici. Ecco nel dettaglio le date previste al nuovo decreto legge approvato in serata dal Consiglio dei Ministri. Da domani scatta il posticipo del coprifuoco che passa dalle 22 alle 23. Dal 22 maggio riaprono i centri commerciali, i mercati, le gallerie e i parchi commerciali nel fine settimana e riaprono anche gli impianti di risalita nelle località di montagna che erano chiusi dall'estate scorsa. Dal 24 maggio riaprono le palestre che in base al decreto del 22 aprile sarebbero dovute ripartire il primo giugno. Il primo giugno invece tocca bar e ristoranti che non hanno spazi all'aperto. Si potrà prendere il caffè al bancone del bar o pranzare e cenare fuori anche nei locali al chiuso, cosa quest'ultima che non era prevista dal decreto in vigore. Possibile inoltre tornare ad assistere ad una competizione sportiva all'aperto con una capienza non superiore al 25% di quella consentita all'impianto e comunque non superiore alle 1000 persone. Il 7 giugno il coprifuoco viene posticipato di un'altra ora, si deve rientrare a casa entro la mezzanotte. Dal 15 giugno tornano le feste di matrimonio ma per partecipare servirà il Green Pass, vale a dire il certificato di avvenuta vaccinazione e di guarigione o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Sarà il CTS a definire il numero massimo di partecipanti per gli eventi all'aperto e per quelli al chiuso. Ripartono anche le fiere con la presenza di pubblico, i parchi tematici che in base al vecchio decreto dovevano riaprire il primo luglio, i convegni e i congressi. Dal 21 giugno sparisce definitivamente il coprifuoco. Il primo luglio, gli ultimi a ripartire in base alle scelte fatte, sono le piscine al chiuso, i centri termali, le sale giochi, bingo e casino, i centri ricreativi e sociali, i corsi di formazione pubblici e privati. Sarà anche questa la data in cui si potrà tornare ad assistere ad una competizione sportiva al chiuso. La capienza sarà limitata al 25% del totale e comunque non potranno esserci più di 500 spettatori. Il primo luglio è anche la data in ripartenza dei congressi, ma si sta ragionando di anticiparla al 15 giugno con il Green Pass.